Salve a tutti, salve a tutti. Questo è il mio saluto, il mio ricordo di Silvio Berlusconi. Ho aspettato la fine, il funerale, i tre giorni di rutto cittadino, di rutto nazionale, per dire due parole. Ma, ma, ciò che ho scritto in italiano e inglese per Gerry Cardinale lo vedrete pubblicato su tutti i miei social insieme a questo video. Questo video parlerò poco di calcio perché spero che Gerry abbia visto, spero che Gerry abbia visto che cos'è il mina nei minanisti. Se lo vuoi gestire col moneyball, vendilo e levati dalle palle. Ma, ma, lasciamo perdere un ricordo, un aneddoto, un pensiero su Silvio. Silvio Berlusconi era un genio, un genio, un uomo avanti, un imprenditore di successo, un presidente vincente, un politico di successo, un bomber fino in fondo, con, e sapete bene di cosa parlo. Io ho avuto, personalmente, due occasioni in cui ho visto Silvio Berlusconi a Termoli in questi anni, in questi anni. Una volta, quando venne la prima volta per la candidatura al presidente della regione di Michele Iorio e fece, e fece, e fece il primo comizio in piazza Sant'Antonio sotto il municipio, prese il microfono e disse «Io sono venuto qui a Termoli e non c'è neanche uno della sinistra che si affaccia a salutarmi». Non parlò nessuno, si vergognarono tutti, ma era una battuta, era un missile, fatto con stile e col sorriso, che fece rumore, fa tanto rumore. E già lì, eravamo lì dalle prime ore della mattina, perché Silvio Berlusconi era così, solo per vederlo, solo per sentirlo. Aspettavi ore, ore, solo per poterlo vedere. Qualche anno fa, ultimamente, tornò a Termoli, insieme poi al leader, anche Matteo Salvini, ma tornò, prima, tornò qualche anno fa, prima della pandemia, mi sbaglio, nel 2017, non mi ricordo bene che anno, nel 2019, tornò a Termoli, sempre per votazioni elettorali, mangiò al centro cittadino, e anche lì aspettammo dalle otto della mattina in centro, solo per poterlo vedere. Vi racconto un altro aneddoto, quando scese dall'elicottero, una ragazza, una signora, non mi ricordo se era una donna, insomma una ragazza, Berlusconi gli strinse la mano e disse «Non stringere così forte, o non troverai mai marito, un bomber fino in fondo, ma lo faceva col sorriso, con quelle battute col sorriso. Poi, è vero quello che hanno tutti quanti detto, che lui dava tutte e due le mani, non soltanto una, lui ti prendeva tutte e due le mani, ti stringeva, ti abbracciava. E io ho un altro aneddoto, perché era stato appena venduto in Milan, da lui a Yongong Lee, e io gli dissi, ebbi la fortuna di poterci parlare, e scambiarci due battute, e fece anche una foto con lui. E io dissi, Berlusconi, presidente, mitico presidente, un saluto ai tifosi milanisti. Lui mi disse, non mi parlare di Milan, mi viene il mal di testa. E io ho avuto i brividi, ho avuto i brividi, ho avuto i brividi, ma vi giuro, i brividi dietro la schiena, perché lui già aveva capito che avremmo fatto schifo. E io ho avuto i brividi. Era un uomo avanti, era un uomo avanti, disponibile a tu per tu con tutti, di una elevatura immensa. Uomo simile a Berlusconi era qui a Termoli Carmine D'Angelo. Carmine D'Angelo era definito il Berlusconi del Molise, perché aveva la stessa personalità, lo stesso carisma, le stesse battute. E oggi proviamo lo stesso dolore, almeno io provo lo stesso dolore, lo stesso smarrimento. Non ho mai avuto così paura di retrocedere come dopo questo anno nefasto che i tifosi in Milan hanno visto. Ma Berlusconi è quello che ci ha fatto letteralmente vincere tutto. Se andiamo a letto con questa qua dietro la schiena, è merito di Silvio. Se abbiamo visto giocatori come Manuel Ruicosta, Andrise Viscenco e Paolo Maldini, è merito di Silvio, non certo di Gerry Cardinale. Ma lasciamo stare, questo farà un video a parte da domani quando finirà il lutto. Silvio Berlusconi era un vincente, amato e rispettato da tutti, anche dagli avversari sportivi e non. Si complimentò con chi lo batteva, si complimentava sinceramente, anche per il bel gioco che a tratti il Milan subiva dagli avversari. Vomitò schifo contro il gol di Montari e fu l'unica volta che lo si vide veramente incazzato come eravamo incazzati tutti. Gli dissero, Presidente, un commento sul gol di Montari. Disse, è meglio non fare dichiarazioni e tutti capirono che era incazzato come una bestia. Ma di Berlusconi va ricordato quello che lui era. Ribadisco, un uomo avanti che quando arrivò anticipò i tempi. Disse, io porterò il Milan in alto a vincere tutto e gli risa in faccia. Tacconi gli disse, prenderà l'elicottero così come è sceso per scappare e se ne pendì amaramente. Grazie Silvio, grazie Silvio. Chi ti ha vissuto, chi ti ha visto anche solo cinque minuti, non dimenticherà. Non potrà dimenticare un vincente, un genio, una persona avanti. Hai però anche distrutto il Milan così come l'hai reso grande. Perché io non dimentico il cartellone inserir the coin sevesimilan che fummo costretti a mettere prima che la cessione avvenne. Perché purtroppo hai avuto anche dei lati negativi, dei momenti difficili. Ma sempre costile, sempre in maniera forte, decisa, mai banale. Anche nelle sconvitte, anche negli anni bui. Quando si rurasti Tabarez per il troppo schifo, quando si rurasti Terim, l'hai fatto sempre in maniera decisa e ti assumevi le responsabilità delle azioni. Io, in questo video, lascerò qui sotto il messaggio per Gerry Cardinale. E domani farò un video a parte, solo per lo schifo, che stiamoci preparando a vedere con Gerry Cardinale. rinverisco il mio saluto, il mio addio, il mio più sconcerto, il mio più disperazione. Lo faccio oggi, questo video, perché gli altri due giorni sono lacrime e disperazione. Quindi ho aspettato, perché quando sono queste tragedie, queste tragedie in mani, uno deve stare zitto e far passare tempo. Ma la ferita è ancora aperta, è freschissima. Ci vorranno mesi, anni, per ritornare a ricordare Silvio come merita. Ribadisco l'hashtag. O Milan vincente, Gerry, o leva a tirare le palle. Ciao a tutti.